Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa del Mattino. Oggi è mercoledì 9 settembre 2020, in diretta alle 7 c'è la lettura dei giornali, i titoli, le notizie più importanti con i quotidiani, con gli inserti locali, il Carrino e il Corriere Adriatico. Intanto stavo salutando anche quelli che ci seguono attraverso Facebook. Ne abbiamo augurato il buongiorno, non il buongiornissimo, il buongiorno. Allora, adesso il santo del giorno. Andiamolo a vedere subito con il cartello San Pietro Claverre. Il sole è sorto con l'alba alle 6.43, tramonterà alle 19.33 e il tempo. Avremo cielo sereno, poco nuvoloso, secondo il bollettino della Protezione Civile delle Marche, per la giornata di oggi. Vedete temperature che sono ancora in lieve aumento, sarà ancora una giornata molto calda. Oggi, così come ancora più calda, sarà quella di domani. Arriveremo ai 30 gradi abbondanti qui sulla costa. Qualche precipitazione nel pomeriggio possibile, con isolati temporali sulle zone altocollinari. Mentre per venerdì 11 settembre, ancora cielo sereno, poco nuvoloso, tempo stabile e soleggiato anche per il fine settimana. Dunque, un sole che è sorto poco fa e che adesso andiamo a vedere invece, vi facciamo vedere in diretta, grazie alle immagini che ci regala il nostro bagnino. Tommy, buongiorno, dalla spiaggia di Bagnicarlo, siamo in Sassonia, a Fano, oggi abbiamo anche una bella connessione e quindi riusciamo a vedere in tutto lo splendore questo scenario molto bello. Oggi è caldo, ieri ha fatto caldo lo stesso, eh? Sì, Marco, assolutamente, assolutamente, veramente caldo, giornata estiva a tutti gli effetti. E quindi oggi vedo il mare che è calmo. E dunque oggi ci sarà l'assalto, ci sarà l'assalto alla spiaggia, che dici? Ma guarda, in realtà a livello di assalto ormai le cose sono molto tranquille. La gente viene a mano perché c'è una descritta fluenza, però chiaramente non è paragonabile a quella di luglio-agosto. Bene, godiamoci allora queste belle giornate estive. Ancora ne avremo, eh, perché qui si parla di sole per le prossime settimane, prossimi giorni. Grazie Tommy, allora ci vediamo domani. Grazie a voi, buona giornata. Allora, subito i giornali, come dicevo, allora mettiamo giù il telefonino. Allora, i giornali con il fotonotizia del resto del Carlino. E questo è solo l'inizio alla febbre, studente isolato. È solo l'inizio, dobbiamo dire, che c'è stato questo primo caso a scuola, a Pesaro. Scatta la maxiprocedura anticovid, è andata bene tutto quanto, insomma anche la procedura si è svolta nel modo più regolare possibile. Ma va detto che le scuole in questo momento sono occupate soltanto dagli insegnanti, dal personale e poi da quegli studenti che devono recuperare un po' le materie. Quindi diciamo che il grosso arriverà il 14, la prossima settimana. Poi è Fabio Masini, il nuovo direttore del Conservatorio. La visita di Mattarella a Loreto, messaggio di pace al mondo. Ci spiace, l'esame è cancellato, sanità all'odissea delle prenotazioni, ancora caos con il CUP che non ingrana. Niente test salivare invece ai bimbi autistici, insorgono le famiglie. Questa è una notizia che arriva da Fano. Il centro pagina con la foto del Corriere Adriatico su tutte le edizioni delle Marche è per l'abbraccio di Loreto a Mattarella, il Presidente della Repubblica che ieri ha acceso la lampada per l'Italia. Studente con 38 di febbre scatta subito l'isolamento. Ieri il primo caso al corso di recupero. Applicata la procedura, telefonate ai genitori e al personale sanitario immediato l'utilizzo del kit d'emergenza in attesa che il ragazzo venisse portato via. Quarantena dimezzata, bastano sette giorni. Di questo si parla nelle pagine nazionali del Carlino. Parigi dall'esempio, l'Italia pronta alla svolta. Il Premier Conte non esclude una possibile riduzione. Si eviterebbe di costringere gli asintomatici a stare chiusi in casa per due settimane. È un cambio di passo quello della Francia che è orientata a far scendere dagli attuali 14 giorni a sette il periodo di quarantena per i positivi al coronavirus a patto che siano asintomatici. La decisione dovrebbe essere formalizzata venerdì prossimo. Le motivazioni sono che la riduzione dovrebbe essere, secondo Parigi, garantire un miglior rispetto della quarantena e allo stesso tempo risponderebbe a studi scientifici per i quali la contagiosità sarebbe alta solo nei primi cinque giorni dopo il test. La situazione attuale è una volta positiva al Covid. Invece nel nostro paese il soggetto è tenuto a trascorrere 14 giorni in quarantena. Serve un doppio tampone poi negativo per la formale e piena negatività del contagiato. Il vice ministro Sileri ora però non esclude una svolta e quindi di seguire l'esempio di Parigi. Sulla pandemia che cosa ci aspetta adesso? Meno casi gravi ma sarà comunque dura. C'è stato un summit nella sede della Croce Rossa, tamponi di massa contro l'influenza. Si pensa anche al drive-in. Qui siamo sulla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico. La domanda ovviamente è complessa, la risposta è complessa, la domanda è d'obbligo. Ma sindacati, amministratori pubblici e dirigenti sanitari si sono riuniti l'altra sera nella sede della Croce Rossa a Pesaro per un incontro moderato dalla sindacalista Dalibor della CISL. Hanno cercato di fare un po' di chiarezza sullo scenario che ci attende da qui alle prossime settimane. E uno dei tanti problemi che sono in qualche modo emersi è il fatto che qui pare che ci si stia concentrando soltanto sul Covid, gli ospedali, le strutture e questo va bene. Però dobbiamo capire e sapere che ci sono anche tutti gli altri malati, i cronici, quindi i diabetici, i cardiopatici, insomma tutti coloro che purtroppo hanno un tumore e che devono in qualche modo essere curati. E di questo si è parlato anche, di questa problematica. Per esempio la diabetologia a Marche Nord non esiste più e i pazienti sono ormai costretti ad effettuare i controlli andando a pagamento, ha denunciato il presidente di Asso Diabetici Paolo Muratori. Augusto Oliverani invece, direttore del settore prevenzione delle malattie infettive dell'area Vasta 1, dice alle porte c'è anche la campagna anti-influenzale. Questa vaccinazione è protettiva anche per il Covid, perciò stiamo pensando ad una vaccinazione di massa, attrezzando appositi drive-in per somministrare le 90.000 dosi disponibili e quindi vaccinando il 40% in più delle persone rispetto allo scorso anno. Sul Corriere Adriatico, l'effetto vacanze sui contagi Ascoli ha più casi di Ancona. Dal 1 agosto il Piceno ha registrato 82 positivi, due in più della provincia del Capoluogo. I viaggi annullano lo scudo dell'isolamento, Pesor Urbino ancora in testa con 179 infezioni. I ricoveri sono fermi a 17, uno in rianimazione, quasi 6.000 i guariti. Ieri 15 positivi, 5 rientri da Albania, Germania e Ucraina. Poi qui a destra vedete si accende la lampada per l'Italia e Loreto abbraccia Mattarella, un momento fortemente simbolico per un rito decennale della tradizione della Santa Casa, un rito che iniziò l'arcivesco allora del tempo, Angelo Comastri. Covid, i gestori dei locali lanciano l'appello, aiutateci a far rispettare le regole. Ieri c'è stato un incontro in Comune a Pesaro dopo le multe di agosto. Chiediamo collaborazione anche da parte delle forze dell'ordine per sensibilizzare le persone a rispettare le regole dell'era post-Covid. Quanto hanno chiesto ieri mattina i rappresentanti delle associazioni dei locali annuali e stagionali, un'ottantina di persone circa, durante questo incontro che è avvenuto con l'assessore all'innovazione Francesca Frenquellucci, con la responsabile delle attività, alle attività economiche, Stefania Marchionni, e il comandante della Polizia Municipale, Francesca Muzzini. Mentre sulla pagina del nazionale, del resto del Carlino, visto che parliamo tanto del rientro in classe, qualcuno già lo ha fatto, per esempio pensiamo a Fano, ai bambini del nido, bambini che solitamente si abbracciano senza troppi pensieri. Ecco, in classe, senza braccia e coccole, la psicologa dice, uno shock per i bimbi. Il ritorno a scuola con la pandemia, per superare le difficoltà bisogna gestire le regole con le famiglie. Un consiglio ai prof, niente punizioni a chi non porta la mascherina. I più piccoli sanno adattarsi. Sul Corriere Adriatico, scuole il Rebus Aule, qui siamo di nuovo a Pesaro, trova la soluzione. Soltanto 20 sono le classi da sistemare. A luglio la provincia ne aveva contate 145 da mettere a norma nelle superiori. Il dirigente Bartoli, Maurizio Bartoli, che vedete nella fotografia, stiamo, dice, concludendo tutti gli interventi che sono stati programmati. Per la Galilei e la Pirandello, la settimana diventerà corta. Niente lezioni il sabato, per questioni organizzative, ma anche per la questione dei trasporti. A Via La Marmora, Anna Scani inaugurerà la nuova scuola media. Cerimonia venerdì mattina insieme al Vice Ministro. Mattarella, messaggio di pace al mondo. Il Presidente ha acceso la lampada nella Basilica di Loreto. 400 fedeli in piazza, il grazie del Governatore Ceriscioli. L'Arcivescovo Dalcini in quest'anno dice giubilare, il rito si estende a tutta l'umanità. Malore alla guida, salta la corsia e abbatte le fioriere di un negozio. Siamo a Pesaro, si è sentito male mentre era alla guida di questa sua automobile. Ha avuto un malore, l'auto ha saltato la rotatoria, invaso la corsia opposta definita contro le fioriere di un negozio, come vedete in questa fotografia. Dicono quelli del negozio, ci siamo ritrovati il veicolo davanti alla vetrata in serie condizioni. La donna che era al volante è stata portata via con l'ambulanza. È successo a mezzogiorno in via Cimarosa, nella zona dell'Ipercop. Parco Miralfiore è una donna di 57 anni che ha dovuto poi essere portata via con il 118. Mentre sull'altra pagina di Pesaro del Corriere Adriatico, parcheggi, passaggio di consegna, apre la baia e chiude Villa Marina. Ad inizio ottobre pronta la nuova area di sosta, al centro di un acceso dibattito sulla mobilità sostenibile. E poi i proprietari che escono di casa, i ladri, fanno razzia di gioielli, il furto in una villetta di Viale della Vittoria. Siamo sempre a Pesaro, le indagini affidate alla polizia. Un emporio della droga invece, comprata sul web, un cuoco di 31 anni, patteggia 3 anni e mezzo, si riforniva tramite contatti vari sui social e come moneta virtuale circolavano i buoni Amazon. I clienti praticamente li trovava sui vari social, la droga se la procurava sul deep web, cioè il web, la parte quella nera, quella nascosta della rete, cioè la rete parallela appunto del web, usata per traffici illegali e per commettere reati. Nel giro illegale qualcuno pagava la droga con una moneta che era diventata di recente virtuale, ovvero i buoni Amazon che normalmente la gente usa per fare i regali agli amici oppure ai parenti. Mentre sugli insulti sessisti, la Digos indaga e segnalerà questo fatto al Ministero. Gli insulti sessisti sono a carico del contro rivolti a Sabrina Santelli, candidata al Consiglio regionale nella lista di centrosinistra Rinasci Marche, che appunto dicono non vanno lasciati nel vuoto e dunque la Digos ha in qualche modo iniziato le indagini. Si schianta con l'auto alla rotatoria, gravissima, una 57enne di Novilara. Questo è il titolo che dedica appunto a questa notizia di cronaca, il resto del Carlino. La donna intorno a mezzogiorno di ieri era alla guida di una Fiat 500 che vedete nella fotografia. La padrona esce per andare a fare la spesa, i ladri svaliggiano la casa in viale della Vittoria. A Fanno invece niente test salivari, la rivolta delle mamme, ragazzi autistici, le famiglie insorgono, non ci sono i kit, allora i controlli slitteranno, si spera in un incontro chiarificatore. Il test ai familiari, noi stiamo bene perché dobbiamo fare il tampone. e poi sotto il turnover inesorabile in comune. Siamo a Fanno, tre dirigenti saranno sostituiti, Giangolini al posto di Sorbini, Carbonari andrà a fare il capo dell'ufficio turismo, cultura e servizi educativi. A riposo anche Giampaoli, Mauro Giampaoli, funzionario appunto del turismo. Da Fanno invece sul Corriere, emergenza, casa, arriva l'aiuto, contributi fino a 12 mila euro, morosità incolpevoli, i fondi previsti dal comune, corrisposti direttamente ai proprietari. Mentre tamponi per l'accesso ai centri diurni, nuova tensione, frenata sull'esame salivare, domani riunione dall'avvocato per i genitori degli autistici. A Fenile non si vede la luce, ciclabile e provinciale praticamente buie. I residenti chiedono interventi per la sicurezza, Canfora dice solo parole, aspettiamo adesso i fatti. Mentre sul Carnevale, il Carnevale di Fano, Giampaoli, la Presidente, a Putignano per condivisione e rinascita. L'ente ospite del Festival Spark, il Covid è un'incognita per tutti. Quindi il problema di se fare o no il prossimo Carnevale riguarda non solo Fano, ma anche tutti i Carnevali d'Italia. Estate finale in coro, aspettando il Brodetto Festi, saluto al cartellone con la 47esima edizione dell'incontro polifonico, con l'intervento di dieci cori, quasi tutti i marchigiani, si è conclusa domenica scorsa la 47esima edizione dell'incontro polifonico città di Fano. Dal Carlino, Aset, nessuna frana, ma la crepa c'è. L'azienda tranquillizza sui lavori della vasca di raccolta dopo le vibrate proteste dei residenti dell'Arzilla. Lavori in completa sicurezza. Queste sono le fotografie di una dei residenti, mentre indica la crepa che si è formata su una strada lì vicino. Mentre sotto si tratta, dice il Presidente di Aset, Paolo Reginelli, di un piccolo e fisiologico spostamento del terreno nel cantiere, quindi nulla di pericoloso. Non si sa se le nostre case sono state danneggiate, già troppi i disagi patiti. E il contratto di fiume che fine ha fatto, i due corsi Arzilla e Metauro in sofferenza idrica lo riportano in ballo. L'assessore Tonelli risponde rimetteremo mano ad ottobre. Mentre a Urbino, cultura in lutto per la morte di De Sanctis, il professore universitario è mancato all'ospedale cittadino, aveva 84 anni di origine abruzzese, era allievo del filosofo Pasquale Salvucci. I funerali si svolgeranno giovedì alle 15 nella chiesa di Santa Maria a De Cruce a Mazzaferro. Era legatissimo alla terra natia con Villa Alfonsine. Villa Alfonsine aveva mantenuto un rapporto stretto ed affettuoso. Benvenga il nuovo direttore del Palazzo Ducale di Urbino, Egidio Cecchini, parla a nome di Commercio e Conf Turismo. nella gestione ad interim ci sono state delle carenze. Andiamo sulle pagine di Vallefoglia Urbino del Corriere Adriatico. La scuola in primo piano, la scuola Pollaio in 49 per due classi, richieste inascoltate, genitori in rivolta, affollamento, pochi insegnanti e timori per una disabile alla primaria di Cagli. il sindaco scrive alla regione e al ministero. Beh, insomma, 49 bambini tra i quali anche una piccola disabile e solo due classi ad accoglierli alla scuola primaria dell'istituto Tocci di Cagli. Insomma, sono un po' troppi. Alla vigilia di un delicato anno scolastico che si apre sotto la minaccia del Covid-19, due classi soltanto, due sole classi prime, una di 23 bambini e una di 26. E poi, sempre sul Corriere la pagina di Urbino, scuola e asilo, nessuna risposta. Viva Urbino e PD avevano chiesto all'amministrazione il quadro della situazione per aiutare studenti e genitori. Le nostre domande costantemente ignorate dalla maggioranza, un atteggiamento padronale senza rispetto. No alla fiera, nazi protesta, sventola su Monte Copiolo, la maggioranza censura, la bandiera apparsa con la scritta Pugliano Caput. E adesso la pagina di Fano, il Valle del Cesano del resto del Carlino. Andiamo a Mondavio, anzi a San Filippo sul Cesano per l'esattezza, cimitero e impianto a LED, Mondavio si rinnova, San Filippo si rifarà tutta la rete nel capoluogo ampliamento del Camposanto, pronta la gara, interventi anche a Sant'Andrea. Qui vedete il sindaco Marco Zenobi in via Togliatti dove verrà implementata l'illuminazione, poi il rifacimento della palestra dice ancora il sindaco, del tutto ristrutturata per giovani e adulti. Andiamo a Saltara dove c'è in programma un concerto di fine estate con Arianna e la banda Musicando. Il Comune di Colle del Metauro ha organizzato per questa sera mercoledì alle ore 21 nella pista polivalente di Saltara il concerto di fine estate. Protagonisti la banda Musicando e la cantante solista Arianna Palazzetti sotto la direzione del maestro Michele Spadoni. Andiamo sulla pagina di Valle del Cesano i fossi e i canali abbandonati tra zanzare e odori nauseanti. La protesta dei residenti della periferia di Marotta ridosso della 14 si parla ancora di rischio esondazioni mentre Guccini in piazza San Marco parla di Mondolfo intervistato da Cristina Parodi per Rai Cultura su Vorrei e la cittadina dice ha detto è la cittadina di mia moglie quindi parlando appunto di Mondolfo. Dalla Valle del Metauro Parco Carloni siamo a Fossombrone il prefetto ha dato ragione al sindaco Bonci ha ricevuto la risposta all'esposto della minoranza sull'abbattimento degli alberi e la prefettura dice no è stato tutto regolare e poi invito a cena nella casa invasa dai miasbi i residenti di Schieppe chiamano il sindaco Sebastianelli dicono ci devono tutelare mentre sulle pagine di sport della nostra rassegna stampa dal Carlino Alma Ascoli nel deserto cioè senza pubblico amichevole vietata a tutti non solo i tifosi stadio precluso anche a giornalisti e fotografi intanto è a rischio pure la pubblicazione dei calendari di serie C per quanto riguarda il mercato l'ex Granata Eclou Shaka Mauli lo scorso anno a Ravenna ha firmato con la Samb il basket la Papalini Pesero K.O. a Rimini ma è una sconfitta a testa alta il presidente Crinelli dice siamo riusciti a mettere pressione alla capolista fino alla fine poi la ginnastica artistica con l'associazione sportiva Fenix acrobazie che durano da 30 anni e a breve si tornerà anche all'agonismo femminile l'ultima pagina della nostra segna stampa per la Vis Pesero Bosco tira le somme la squadra è completa il patron è soddisfatto delle operazioni di mercato c'è spazio per inserire un over ma in questa fase non si ravvisano mancanze il budget è cresciuto parecchio rispetto a quello dell'anno scorso poi in prima categoria invece il Santa Veneranda riparte con rinforzi ed entusiasmo il patron Mario Morazzini la curiosità è tanta ecco le novità nello staff e nella squadra è tutto grazie per aver seguito la nostra segna stampa l'informazione qui su Fano TV canale 17 torna questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia buona giornata grazie a tutti